L'importante accordo a favore delle micro, piccole e medie imprese sottoscritto dalla banca di Imola e da confattigionato Assimprese di Imola e del territorio bolognese. L'importanza dell'accordo risiede nella possibilità di accedere a finanziamenti agevolati grazie a un plofond di 5 milioni di euro che l'Istituto bancario Imolese ha destinato a questa iniziativa. Rivolgendosi a confattigionato Assimprese, gli imprenditori potranno chiedere un finanziamento chirografo da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 100.000 euro, a un tasso di interesse convenzionato. Il finanziamento, da restituire a rate mensili, potrà avere una durata minima di 36 mesi e massima di 60. Le richieste saranno esaminate in ordine cronologico fino a usaurimento del plafond. Benissimo, grazie, buongiorno. Ringrazio per quello che è stata la disponibilità nel compattigionato Assimprese di prendere in serie considerazione la proposta di Banca di Imola e di realizzare in maniera concreta quello che è il sostegno alle realtà economico-sociali di questo territorio per mettere in pista quelli che sono la realizzazione di sogni che fanno parte della capacità di intraprendere da parte dei nostri clienti. Quindi per le piccole e medie imprese, per gli artigiani e i commercianti Banca di Imola testimonia quello che è una cultura del sempre di essere oltre che prossimi ai clienti ma di avere la capacità di sostenerle nei momenti sia di difficoltà ma anche nella realizzazione di quelli che sono progetti che insieme a Confartigianato vogliamo mettere in pista anche mediante questo tipo di plafond a disposizione per finanziamenti mirali. Sono finanziabili le spese sostenute o da sostenere per investimenti strumentali inerenti all'attività esercitata dall'impresa, investimenti in energie rinnovabili, rimozione e smaltimento amianto e successivo ripristino delle coperture, lavori di ristrutturazione, adeguamento e ammodernamento della sede aziendale, spese e investimenti inerenti all'avvio di nuove ditte. Gli investimenti possono essere retroattivi a partire dal 1 gennaio 2013 e gli interventi devono riguardare la sede dell'azienda o una sua unità locale ubicata in provincia di Bologna. Si tratta di una iniziativa che abbiamo voluto mettere in campo assieme alla Banca di Imola per dare un sostegno per quanto riguarda il credito alle piccole e medie imprese. L'obiettivo era quello di fare un progetto, un'iniziativa semplice, chiara, eliminando tutti quegli aspetti burocratici che molte volte contraddistinguono questo tipo di proposte e che molte volte arenano le imprese e si arriva ad una mancanza di risultato. La Banca di Imola ha creduto in questo progetto, ha messo a disposizione un plafond importante e significativo di 5 milioni di euro. Come Confartigianato abbiamo costruito attorno a questa disponibilità un'iniziativa che possa sostenere gli investimenti, il credito delle piccole e medie imprese. Questo non è tutto perché il cuore dell'iniziativa, che infatti non abbiamo voluto chiamare bando ma abbiamo opportunatamente chiamato protocollo d'intesa, è una task force costituita da collaboratori della Confartigianato e collaboratori della Banca di Imola che incontrano l'imprenditore, ascoltano quello che è la sua iniziativa e il suo progetto e assieme lo aiutano e lo conducono nella costruzione del progetto finanziario. Il modulo per fare richiesta è reperibile sul sito www.confartigianato-assimprese.it e nelle filiali della Banca di Imola. Grazie a tutti.